Nipotino Jacopo portato per la prima volta sul podio, felicissimo Ale Lupino, baciato dalle ragazze, pronte per la consegna delle coppe, pronto con la consegna delle coppe il presidente del motoclub Franco Polidori, già consegnata a Bertuccelli, già consegnata a Yamamoto ed ora il trofeo della vittoria nelle mani di Alessandro Lupino, raggiante, ci mancherebbe altro e noi siamo qui per salutarvi, per ringraziare tutto lo staff di Sport Production, hanno fatto un gran lavoro, difficile quest'oggi, non rimane altro che rimandarvi al 28 di giugno per il quarto round del campionato italiano motocross, da Giancarlo Ricciotti direi che è tutto, Enzo Tempestini è l'inquadrato, vi saluta anche lui, è stato un piacere, ciao a tutti, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!